Mi sono dato un tempo, siccome sono il teorico della rottamazione, ho detto che introdurremo il principio anglosassone, per cui due mandati e a casa, se non ti mandano a casa prima naturalmente, per cui io so perfettamente che la mia esperienza politica ha una data di scadenza al massimo 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 febbraio 2023, tra meno di 7 anni, cioè io immagino a 48 anni di rimettermi se mi va tutto bene, se le vinco tutte, referendum, elezioni, sarò un libero cittadino che chiude con la politica, che non torna nei palazzi nemmeno per salutare, ci si vede a prendere il caffè sotto, perché quando chiudi, chiudi, altro che i politici a vita che rimangono lì, che si preoccupano di tenersi la poltrona e non cambiano il paese. Io devo cambiare il paese, non devo cambiare costantemente ufficio andando a fare una volta il ministro, una volta il deputato, ma io quando chiudo, chiudo, on, off. Fino a quel momento c'è una responsabilità meravigliosa, quella di restituire all'Italia consapevolezza di quello che è.